In occasione di Piazza Europa torna il Park & Bus gratuito. Il servizio promosso e sostenuto da Trieste Trasporti in collaborazione con il Comune di Trieste ed esatto. Park & Bus consentirà di lasciare l'automobile in apposite aree semi periferiche e di raggiungere il centro città in autobus senza dover pagare il biglietto. Cinque parcheggi coinvolti, il quadrivio di Opicina, lato Banne, via Flavia, piazzale Cagni, Chiarbola, piazzale delle Puglie, Barcola, piazzale 11 Settembre e via Carli. Il servizio sarà attivo dal 22 al 25 aprile. Il personale addetto presente sul posto consegnerà agli utenti un biglietto per viaggiare sugli autobus di linea fino alla mezzanotte di ciascuna giornata. Il biglietto dovrà essere obliterato nel viaggio di andata e dovrà essere esibito a richiesta dei verificatori a bordo dei mezzi. Nei giorni di Piazza Europa sono anche previste alcune deviazioni ai normali percorsi di linea in virtù della chiusura al traffico di via Mazzini nel tratto compreso fra via Embriani e Le Rive, dalle 15 di sabato 21 aprile all'ultima corsa di mercoledì 25 aprile. In particolare saranno soggette a modifiche le linee 4 direzione Piazza Tomaseo, 5 entrambe le direzioni, 9 entrambe le direzioni, 10 entrambe le direzioni con capolinea in Piazza della Borsa, 11 direzione Corso Italia, 17 direzione Piazza Tomaseo, 18 direzione Corso Italia, 24 entrambe le direzioni, 25 direzione Corso Italia, 28 direzione Piazza Tomaseo, 30 entrambe le direzioni e la linea notturna A. I dettagli dei percorsi modificati sono disponibili sul sito www.triestetrasporti.it e la sezione ultima ora.